Buonasera, buonasera. Grazie. Grazie, vedo che vi fidate, che applaudite in antigeno. Allora, questa sera siamo alla seconda delle tre fra le grandi rivolte popolari del Medioevo che mi sono proposto di raccontare. Ieri eravamo nella Francia rurale e adesso siamo nell'Italia delle città. Un mondo, chi di voi c'era ieri, vedrà che è un mondo completamente diverso e anche molto più complesso. Perché quella che raccontiamo stasera è la più grande rivolta non contadina ma operaia, non rurale ma urbana, che ci sia stata nel Medioevo e anche la più grande rivolta popolare che ci sia stata in Italia forse per molti secoli. Siamo dunque a Firenze dove venerdì 18 giugno 1378 il gonfaloniere di giustizia, salvestro di Messera Lamanno dei Medici, riunisce a Palazzo Vecchio i priori, e cioè la giunta che governa la città di Firenze, e presenta la proposta di rafforzare gli ordinamenti di giustizia contro i magnati. Che cosa vuol dire tutto questo? Non lasciatevi ingannare dal fatto che questo è un Medici, i Medici non sono ancora i signori di Firenze. Sono una grossa famiglia di banchieri, una grossa famiglia del popolo grasso, come dicono loro, e cioè non nobili, non molto antichi, ma gente che ha fatto un sacco di soldi e che in città conta molto, però tutti sanno che non sono nobili, non sono gli uberti, ecco no, sono popolo anche loro, popolo di quello che ha fatto fortuna. Il gonfaloniere di giustizia è il principale funzionario esecutivo della città, è l'uomo che mantiene l'ordine in città, è l'uomo che comanda la polizia, è l'uomo che sovrintende alle prigioni, agli arresti, agli interrogatori, sotto tortura, se ce n'è bisogno, alle esecuzioni, è il principale esponente della giunta appunto che governa la città. Otto priori più il gonfaloniere di giustizia. Questa giunta, devo entrare un po' in dettaglio, ma è inimmaginabile il modo in cui funzionava il comune di Firenze in quel momento. I priori, dunque, questo è un governo di popolo, un governo di popolo vuol dire che tutti possono partecipare, tutti? Beh, intendiamoci, il popolo vuol dire la gente che lavora, che è a casa, bottega, quindi il popolo vuol dire gli imprenditori fondamentalmente, se vogliamo usare un termine nostro, però tutti e quindi mentre c'è il popolo grasso, che sono gli industriali della lana e sono i grandi banchieri, cosa ancora, i giudici, gli importatori di tessuti, i grandi mercanti, quello è il popolo grasso, i medici, nel senso di quelli che sono laureati in medicina, e poi però gli imprenditori sono anche il calzolaio, il muratore, il fabbro, l'oste e anche loro partecipano al governo, questo vuol dire un governo di popolo, un governo a cui quindi un sacco di gente partecipa, migliaia di cittadini hanno titolo per occupare degli uffici del governo cittadino, il governo cittadino comprende un'infinità di commissioni, sottocommissioni che vengono create in tutti i momenti, quindi ci sono grosse possibilità effettivamente per qualunque cittadino che abbia anche soltanto una piccola attività, qualche volta nella vita di sedere in una commissione che prende delle decisioni. La commissione più importante di tutti sono gli otto priori e il gonfaloniere, loro sono quelli che comandano davvero, sono il governo della città, loro dicono la signoria. Prima sorpresa, i priori, sorpresa per noi che siamo ossessionati da questa idea negli ultimi tempi che i governi devono durare, perché se i governi non durano per l'intera legislatura chissà quale sciagura ci aspetta, la governabilità, la stabilità del governo. Loro, strana gente, ragionava in modo completamente diverso. Nessuno deve stare al governo troppo a lungo, nessuno deve prendere troppo potere, perciò i priori restano in carica due mesi. Dopo due mesi se ne fanno degli altri, così sono contenti tutti, tutti hanno la possibilità di accedere al governo una volta nella vita, è quello che loro chiamano un governo largo. Seconda sorpresa, come vengono nominati i priori? Non vengono nominati, vengono tirati a sorte fra tutti gli iscritti alle corporazioni. Le corporazioni, ripetiamolo, non radunano l'intera popolazione, radunano gli imprenditori, ma anche i piccoli. Sono tante, i membri delle corporazioni sono centinaia o migliaia per ogni corporazione, per ogni arte, come dicono i fiorentini, e ci sono gli elenchi degli iscritti, e periodicamente si fanno dei grandi sacchi delle borse, dicono loro, dove i capi di ogni corporazione si riuniscono e dicono allora, per il sorteggio dei priori in futuro, chi mettiamo dentro dei nostri? Chiaro che a quel punto quello che conta è essere quello che decide quali nomi mettere nei sacchi, però nei sacchi si mettono centinaia, migliaia di nomi, centinaia o migliaia di bigliettini, su ognuno c'è il nome di un iscritto alla corporazione, poi si chiudono i sacchi, ogni due mesi si riaprono e si tirano fuori i nomi. Così funziona il governo di Firenze, un governo di popolo. E voi capite, se dovessimo trovare un paragone con oggi potremmo dire che è il governo della confindustria, di confartigianato, di confesercenti, tutti, non solo dei ricchi. Chi rimane fuori? E rimangono fuori i dipendenti, rimangono fuori i lavoranti, i garzoni, gli operai, quelli che lavorano sotto padrone e non hanno niente di loro. E quelli sono tanti, tantissimi, non solo perché in ogni bottega c'è un garzone, ma perché Firenze è una grande città industriale, dove c'è un'attività industriale che dà lavoro a 15.000 persone, a occhio e croce, in una città che non ha neanche 100.000 abitanti, ecco, un'enorme attività industriale, il tessile, il tessile, la lana. L'arte della lana è la corporazione degli industriali, dei padroni. E ogni industriale dà lavoro a un'infinità di operai. Loro non sono iscritti, non sono sindacalizzati, non sono organizzati, non possono essere estratti a sorte per occupare un posto nel governo della città. Chiariamoci meglio, l'industria. Noi quando pensiamo all'industria pensiamo subito ai capannoni e alle forze... ecco, non c'è quello, o poco, ma è un'industria lo stesso, perché è un'attività su grande scala. Il lanaiolo è uno che importa lana dall'estero, la fa venire dalla sud, la fa venire dalla Spagna, dall'Inghilterra, investendo migliaia di fiorini. E questa lana ogni giorno entrano a Firenze carovane di muli, di asini, carichi di sacchi di lana grezza. E poi l'industriale, il lanaiolo, è quello che distribuisce questa lana grezza a domicilio a una marea di operai, ognuno dei quali fa una delle tante cose che bisogna fare. In particolare c'è un'attività che non richiede nessuna specializzazione particolare, pettinare la lana, cardare la lana. C'è un enorme lavoro per trasformare la lana grezza in qualche cosa che si può poi tessere. E tutto questo lavoro viene fatto a domicilio, da gente a cui il padrone fa consegnare la lana grezza, poi la ritira lavorata e poi la porta a domicilio ad altri operai più specializzati, i tessitori, che a casa hanno il telaio e producono il tessuto. Che poi viene rifinito in mille modi da altri operai e qui davvero anche in capannoni industriali perché ci sono attività pressatura dei tessuti che loro hanno imparato che si possono fare a macchina e quindi ci sono macchinari, presse e come funzionano? Con l'acqua, con l'acqua dell'Arno, con l'acqua dei canali e quindi la città è anche piena di impianti industriali dove altri operai fanno altre fasi. Alla fine dieci operai che hanno fatto dieci operazioni diverse hanno prodotto una pezza di un tessuto pregiato che poi il padrone esporta in tutta Europa. L'ho fatta lunga ma sono loro i nostri protagonisti. sono tutti questi che hanno mille nomi che noi non capiamo neanche più ci sono i pettinatori, gli scardassieri, i cimatori, i tagliatori e poi i tintori naturalmente, mille mestieri ma tutta questa gente ha una cosa in comune sono sottoposti dell'arte della lana non partecipano al governo della città. Cosa tiene insieme il popolo che governa? perché voi capite bene che fra il grande banchiere internazionale e il ciabattino all'angolo non c'è più tanto in comune ma in realtà c'è ancora qualcosa che li tiene insieme perché da sempre loro hanno un nemico e sono i nobili, i magnati come dicono loro, i grandi. Chi sono i grandi? Sono le famiglie che in passato governavano la città sono quelli che vivono nei palazzi con le torri avete presente San Gimignano? Ecco, le nostre città medievali erano tutte come San Gimignano in una città come Firenze c'erano più di cento torri e ognuna di queste torri apparteneva a una famiglia a una consorteria, nobili i nobili sono quelli che non è che non lavorano perché le mani in pasta negli affari ce li hanno anche loro nella banca, ma non vanno a bottega e sono ricchi da tanto tempo hanno comprato terra hanno comprato signorie intere castelli in campagna hanno folle di contadini che lavorano per loro e i nobili anche se sono venuti su in una città italiana facendo i soldi nei modi che si fanno in Italia però loro sanno che all'estero un nobile è innanzitutto un cavaliere è uno che va a cavallo che possiede le armi che sa combattere, che fa i tornei e anche i nobili italiani vogliono fare queste cose quindi a Firenze i nobili sono le grandi famiglie antiche abituate a comandare da un pezzo e armate, sono quelli che hanno i cavalieri in famiglia e per tanto tempo hanno comandato loro a Firenze e la brava gente che lavorava e faceva i soldi però si toglieva il cappello davanti al magnate di passaggio poi c'è venuto un momento all'epoca di cui parliamo sono quasi cent'anni ormai che funziona così è venuto un momento in cui la brava gente che lavora e fa i soldi ha detto basta, i nobili sono gente troppo pericolosa troppo violenta perché capite, non l'ho detto con abbastanza chiarezza i nobili sono gli specialisti del combattimento tutti a Firenze sono armati e sanno andare in guerra se c'è bisogno ma i nobili sono i professionisti fanno quello fin da bambini a cavallo, in armatura giocano alla guerra e il gioco della guerra i nobili lo portano anche nella politica è un comune dove si fa politica in mille modi si elegge, si vota, si sorteggia si riuniscono tanti consigli, commissioni ma i nobili sono quelli che quando il governo non gli piace sono capaci di scendere in piazza armati, in tanti fan venire i loro contadini da fuori occupano la piazza e costringono il governo a fare quello che vogliono loro oppure si litigano fra loro e si ammazzano in piazza bene, a un certo momento la brava gente che lavora a Firenze ha detto sai che c'è, basta i nobili non devono più fare politica in questa città questa città la governiamo noi il popolo e hanno fatto gli ordinamenti di giustizia che dicono che i nobili benché siano cittadini come gli altri autorevoli, rispettati, ricchi, importanti vivono qui in mezzo a noi ma i nobili d'ora in poi poltrone nel governo non possono averle si fanno gli elenchi si fanno gli elenchi delle famiglie si va a vedere voi avete dei cavalieri in famiglia? li segniamo nell'elenco quelli che hanno dei cavalieri in famiglia sono nemici del popolo noi non ci fidiamo di loro e da quasi un secolo i nobili non possono più essere sorteggiati per fare i priori per entrare nei principali consigli allora ma se è così se il popolo governa da tanto tempo ma perché il gonfaloniere Salvestro De Medici quel giorno di giugno va a Palazzo Vecchio a proporre di rafforzare gli ordinamenti di giustizia cioè davvero i nobili fanno ancora così paura allora qual è il punto? il punto è che non ci sarebbe più motivo a dire la verità ma le vecchie parole d'ordine continuano a infiammare la gente i fiorentini hanno respirato col latte materno da generazioni l'idea che i magnati i grandi i cavalieri sono nemici del popolo e sono pericolosi non è più vero ma le vecchie parole d'ordine ideologiche continuano a funzionare quanti di voi si ricordano che 25 anni fa qua in Italia qualcuno ha vinto le elezioni agitando la paura dei comunisti ecco nel 1994 i comunisti non avrebbero dovuto più far paura a nessuno invece la gente automaticamente per tanto tempo continua ad avere le vecchie paure allora Salvestro de' Medici è un politicante è un uomo che sa che agitare le vecchie parole d'ordine può sempre funzionare serve quando un politico ha bisogno di ottenere visibilità serve per creare consenso per crearsi un ruolo io il difensore del popolo oppure serve per creare tensioni se uno ha interesse a pescare nel torbido anche lì va sempre bene dire c'è pericolo dobbiamo fare nuove leggi inasprire le leggi la sicurezza ecco d'accordo sto facendo dell'anacronismo ma fino a un certo punto perché funziona così e allora Salvestro de' Medici è andato dai priori con questa proposta e i priori gli dicono picche perché i priori sono di quel popolo grasso che ormai tutta quella paura dei magnati non ce l'ha più il popolo grasso ha fatto i soldi sono più ricchi dei magnati sono imparentati con loro si sono fatti anche loro i palazzi il popolo grasso vorrebbe continuare a guadagnare tranquillo senza più creare tensioni inutili con questi nobili che in fondo sono ecco non fanno ecco però però Salvestro de' Medici i suoi calcoli li ha fatti quando i priori gli dicono no non c'è nessun bisogno Salvestro de' Medici esce dalla sala dice un cronista nessuno sapeva dove fosse andato il punto è che lui ha già fatto i suoi calcoli in un'altra sala di Palazzo Vecchio ha fatto riunire il consiglio del popolo e il consiglio del popolo non sono otto priori sono molte centinaia di membri e questo vuol dire che fra questa gente ci sono i ricchi i grandi banchieri gli industriali ma ci sono anche i piccoli imprenditori gli artigiani i bottegai la gente che tira la carretta e Salvestro de' Medici va da questa gente a dire a dire che i priori non gli permettono di ripulire la città dalla prepotenza dei nobili e i priori sono dei venduti sono dei nemici del popolo anche loro e lui Salvestro de' Medici è quello che voleva difenderlo il popolo dalla prepotenza dei ricchi ma non glielo lasciano fare perciò vi stupirete di come cambia poco con la politica lui dice che si dimette mi dimetto da gonfaloniere testuale eh pertanto io me ne voglio andare a casa mia e fate un altro gonfaloniere in luogo mio e fatevi con Dio naturalmente questa sceneggiata ha successo il popolo che è maggioranza nel consiglio il popolo minuto i piccoli gli artigiani comincia a rumoreggiare Salvestro è il nostro uomo e i priori venduti non gli vogliono lasciar fare queste cose e anche nel consiglio qua ce li abbiamo qua i venduti i ricchi i popolani grassi tutti i traditori e i popolani grassi presenti cominciano a vedere che la grande maggioranza li guarda male e gli viene sotto a muso duro un cronista racconta questa scena c'è lì Carlo Strozzi gli Strozzi sapete palazzo Strozzi no? quindi potete immaginare come si collocano popolo per carità non sono un'antica famiglia di cavalieri popolo però popolo grasso molto grasso e un calzolaio si fa sotto a Carlo Strozzi e lo prende per il bavero in pieno consiglio e gli dice Carlo Carlo le cose andranno altrimenti che tu non pensi cioè le cose non andranno come credi tu e le vostre maggioranze conviene che al tutto si spenghino e cioè è finita l'epoca in cui voi ricchi eravate avevate la maggioranza e governavate la città è finita la cuccagna ora capite un calzolaio che prende così Carlo Strozzi è come un calzolaio che prende così Marchionne quello è il livello e poi uno dalla finestra del palazzo vecchio grida viva il popolo e quando uno grida in pubblico viva il popolo è un segnale che tutti capiscono vuol dire che il popolo è in pericolo e la gente reagisce in automatico cosa succede quando si comincia a gridare viva il popolo tutti rumoreggiano tutti escono in strada le botteghe si chiudono i negozianti serrano tutto la gente si arma la gente va a casa e si arma perché tutti hanno le armi in casa e poi corrono tutti alla sede della corporazione loro perché le corporazioni sono organizzate in modo militare le corporazioni governano la città ma sanno che devono difendere il loro governo fosse mai che i nobili un giorno tentano il colpo di stato perciò le corporazioni sono armate e se tu sei che ne so un fabbro quando senti che gridano e capisci che c'è tumulto vai a casa prendi le armi poi ti precipiti alla sede dell'arte oppure se non trovi più nessuno vai a vedere in piazza dove sono i nostri dove è il nostro gonfalone dei fabbri con su disegna dipinte le tenaglie che sono lo strumento di lavoro dei fabbri e lì tutti noi fabbri ci troviamo tutti armati a sentire cosa comandano i capi della corporazione e a questo punto quindi la piazza si riempie delle corporazioni in armi che tumultuano e gridano ovviamente gridano di più i piccoli gli industriali della lana avrebbero anche evitato probabilmente questa scena ma ormai le piccole corporazioni le arti minori come dicono loro si sono spaventate hanno occupato la piazza e rumoreggiano perché i priori non vogliono accettare di inasprire gli ordinamenti di giustizia tutti i traditori i priori chiusi dentro il palazzo tenete conto che i priori stanno in carica due mesi e in quei due mesi stanno chiusi dentro il palazzo non è che vanno a casa stanno lì dentro anche per evitare appunto che ci sia il colpo di stato mentre loro sono fuori per esempio i priori decidono che va bene aveva ragione Salvestro de' Medici adottiamo la sua proposta e e allora si sparge la voce si inaspiranno gli ordinamenti contro i magnati ma i magnati in città contano ancora qualcosa sono cent'anni no ottant'anni che non possono avere incarichi di governo ma voi capite sono tanti ricchi armati continuano a contare moltissimo e poi i magnati qui vi rifilo un'altra complicazione ma è un mondo complesso come vedete per capire la loro politica avete mai sentito parlare di Guelfi e Ghibellini ecco i Guelfi e Ghibellini anche loro sono lì è una roba vecchia vecchia e stravecchia quelli che stanno col Papa e quelli che stanno con l'imperatore Firenze da tempo immemorabile sta col Papa perché i banchieri fiorentini sono quelli che finanziano la chiesa e quindi c'è un legame strettissimo Firenze può essere solo Guelfa a Firenze i Ghibellini sono stati messi a tacere da un sacco di tempo e Firenze ufficialmente è Guelfa e c'è il partito Guelfo parte Guelfa chi conosce Firenze c'è il palazzo di parte Guelfa parte Guelfa è il partito è il partito che garantisce l'ortodossia della città ed è il partito che da un pezzo ha capito che per condizionare il governo di Firenze c'è anche questo modo quando c'è un uno che sta facendo un po' troppa carriera politica il consiglio dei capi della parte Guelfa si riunisce e dice ci sono un po' troppi Ghibellini in giro in questa città e da tempo che lo sappiamo che ufficialmente è proibito è un Ghibellino non può avere nessun ufficio un Ghibellino vive in città tollerato ma paga più tasse degli altri e non può avere nessun ufficio ma chi è Ghibellino e chi è Ghibellino lo decide il partito parte Guelfa quindi periodicamente parte Guelfa pubblica delle liste dicendo il tale il tale il tale il tale 127 nomi tutti questi ci risulta che sono Ghibellini ed ora in poi non potranno più avere nessun incarico nessun ufficio ora qual è il paradosso che questa specie di mostro impiantato dentro la città questo partito che garantisce l'ortodossia Guelfa e che può colpire chi vuole accusandolo di essere Ghibellino e può rovinare chi vuole è tutto in mano ai magnati perché da sempre il Guelfismo è incarnato soprattutto dai nobili cavalieri i magnati che non possono avere incarichi nel governo controllano il partito e in quel modo condizionano il governo quando si viene a sapere che i priori hanno adottato i nuovi provvedimenti restrittivi contro i magnati i magnati reagiscono come gli viene naturale si radunano tutti nel palazzo di parte Guelfa per decidere cosa fare e quello è il loro errore perché a quel punto fino a un attimo prima erano le arti minori che premevano in piazza i banchieri gli industriali ma se si viene a sapere che i magnati vogliono resistere e allora la vecchia paura riprende tutti e anche il popolo grasso si compatta col popolo minuto e quindi e quindi tutto questo è capitato venerdì sabato le botteghe restano chiuse in tutta Firenze sabato era un giorno di lavoro normalissimo in passato ovviamente ecco ma quel sabato le botteghe restano chiuse e la notte le corporazioni pattugliano in armi la città domenica le arti tutte insieme grandi e piccoli i ricchi e quelli che tirano che sgobbano a bottega le arti tutte insieme decidono di mandare una delegazione dai priori per chiedere una serie di cose lunedì i rappresentanti delle arti vanno dai priori a palazzo li ringraziano per quello che hanno fatto accettare la proposta di salvestro dei medici ma dicono non basta siamo stufi di parte guelfa che ci tiene il gioco sul collo loro decidono loro dicono quello lì è ghibellino rovinano chi vogliono siamo stufi di questo gioco e che per Dio a questo si provvedesse e le arti tutte sono in piazza armate ognuna sotto il suo gonfalone e i priori chiusi dentro il palazzo che devono decidere cosa fare ma qui succede la cosa del tutto inaspettata perché finora io vi ho parlato di un popolo cioè gli imprenditori al governo che decide di dare una sterzata contro i nobili ma mentre la piazza è occupata dalle arti con tutti i loro contingenti armati e i priori dentro il palazzo devono decidere cosa fare in piazza cominciano ad arrivare anche gli altri anche quelli che non sono iscritti alle arti gli operai i lavoranti i battilana come dicono loro tutta questa marea di veri poveri che lavorano sotto padrone nell'industria della lana e che non hanno nessuna rappresentanza politica anche loro cominciano a entrare in piazza e ne arrivano ne arrivano sempre di più e tutta questa gente arrivata in piazza a un certo punto si accorge di essere maggioranza perché gli iscritti alle arti sono tantissimi ma i lavoranti sono ancora di più e mentre le arti sono inquadrate sotto i loro gonfaloni fermi lì tutti sotto il sole in attesa che i capi decidano la marea degli operai comincia a sciamare per tutta la città e cominciano a dare l'assalto alle case dei traditori e chi sono i traditori? Sono quei popolani grassi che sono diventati troppo grassi che la gente dice che sono amici dei magnati in realtà sono diventati come i magnati anche loro non ci si può fidare sono quelli che sono stufi si sa è in città che ci sono dei nobili no nobili no ma dei grossi proprietari di industrie di aziende dei giudici dei giuristi che sono stufi di questo governo largo a cui partecipano anche i ciabattini e gli osti che vorrebbero stringere la gente lo sa li conoscono per nome Messerlapo da Castiglionchi o giudice andiamo a bruciargli la casa e Messerlapo da Castiglionchi o giudice fa appena in tempo a scappare da Firenze e gli bruciano la casa a lui e ad altri i nemici del popolo e quel giorno vengono incendiate le case degli strozzi dei pazzi degli albizi dei soderini tutte famiglie sì sì di popolo in teoria ma in realtà traditori dice la povera gente e il furore dice un testimone di laga in città dove si va alle stinche alla prigione si rompe la prigione e si liberano i carcerati il che vuol dire chiaramente secondo noi il governo è corrotto è traditore la giustizia è traditrice e i carcerati sono carcerati ingiustamente tutti fuori si dà l'assalto ai conventi perché perché a Firenze queste cose succedono spesso e i tumulti in piazza e quando la situazione è tesa e ormai è tesa da parecchi giorni i ricchi a Firenze hanno un riflesso condizionato facciamo un bel forziere di roba preziosa e lo portiamo al convento più vicino dai francescani a Santa Croce dai domenicani a Santa Maria Novella perché se succede il tumulto i conventi magari verranno risparmiati stavolta non vengono risparmiati anzi la folla ci va apposta dura solo un giorno però perché le arti organizzate sono ancora lì e alla fine il popolo smette di saccheggiare anche perché i priori hanno fatto sapere che guai vietatissimo e queste cose saranno punite la gente si spaventa un po' i priori stringono fanno arrestare quattro accusati di aver incendiato e saccheggiato li fanno impiccare in piazza poi viene fuori che sono quattro forestieri che non c'entravano niente avete presente Renzo Tramaglino quando finisce a Milano nel tumulto e arrestano solo lui ecco è tipico il montanaro appena arrivato arrestano questi quattro li impiccano in apparenza è tutto finito ma la botta di vedere gli operai che saccheggiavano e davano fuoco alle case dei ricchi non si digerisce facilmente in città sono tutti spaventati i ricchi gli industriali ma anche gli artigiani sgombrano le loro mercanzie i cittadini grossi come dicono i testimoni assumono guardie private fanno venire i loro contadini dal podere a fargli la guardia alle case sbarrano le porte di notte si fa la guardia dappertutto di giorno le botteghe stavano a sportello il che vuol dire di solito la bottega è spalancata sotto i portici tutti entrano in quei giorni niente il negoziante è chiuso dentro e apre lo sportellino per vendere non si fida ad aprire si va avanti così per giorni si va avanti così per settimane la città è paralizzata è giugno c'è la festa di san giovanni battista la festa patronale la più grande festa della città si corre il palio quell'anno niente non si festeggia san giovanni battista non si corre il palio il primo luglio hanno sorteggiato i nuovi priori che entrano in carica per luglio e agosto normalmente quando vengono sorteggiati i priori e quindi ogni due mesi in tutta la città si suonano le campane a festa e poi i priori dalla scalinata o dal balcone del palazzo giurano davanti al popolo di osservare le leggi di Firenze gli ordinamenti questa volta non si fa niente non suonano le campane perché suonare le campane è sempre una cosa pericolosa in una città medievale fosse mai che la gente sente suonare le campane dice sta succedendo qualcosa andiamo ad armarci ecco non suonano le campane e i priori giurano si devono giurare ma giurano dentro il palazzo a porte chiuse non bisogna dare nessun pretesto perché scoppi di nuovo l'incendio e invece a questo punto la situazione precipita perché hanno tutti paura i popolani grassi al governo hanno paura che i saccheggi ricomincino il popolo minuto ha paura dei traditori al governo ci sono anche i guelfi sinceri che davvero hanno paura che tornino i ghibellini e quindi anche loro tutti in allarme e quelli che hanno saccheggiato quel giorno hanno una gran paura che adesso che è tutto finito la polizia li venga a cercare a casa perché in quel caso è la forca garantita quindi hanno tutti paura e in questo clima negli ultimi giorni prima del 20 luglio ai priori cominciano ad arrivare delle denunce anonime che dicono guardate che gli operai si stanno organizzando guardate che gli operai hanno dei capi hanno in mente di fare qualcosa guardate che gli operai vogliono saccheggiare Firenze i priori ricevono per qualche giorno questi rapporti queste denunce poi le denunce diventano precise è per il 20 luglio il 20 luglio la massa la plebe dei sottoposti insorgerà e metterà a sacco Firenze queste cose arrivano la sera del 19 i priori sono sempre richiusi dentro Palazzo Vecchio e devono decidere cosa fare nelle denunce si fanno alcuni nomi decidono di farli arrestare arrestano quattro operai e li interrogano e dall'interrogatorio di uno di questi arrestati che si chiama Simoncino non ha neanche un cognome è il popolo il popolo non ha il cognome Simoncino figlio di Bartolomeo e Simoncino confessa spontaneamente sì è tutto vero è tutto vero tutti i sottoposti dell'arte della lana non vogliono più essere sottoposti non vogliamo più dover ubbidire ai padroni all'arte della lana che ha il suo funzionario l'arte della lana sovrintende al lavoro degli operai con arbitrio assoluto c'è un funzionario che si fa venire dall'estero da fuori città il quale ha autorità totale controlla il lavoro degli operai sei in ritardo multa questo lavoro non mi piace multa dici che hai lavorato otto ore non è vero te ne pago quattro e gli operai non hanno nessun diritto di rispondere basta dice Simoncino noi vogliamo che questa cosa finisca e vogliamo che la smetta questa storia che non ci pagano perché del lavoro che vale dodici ne danno otto e anche dicono che vogliono parte nel reggimento della città questa è la frase cruciale dell'intera vicenda Simoncino interrogato dai priori dice sì vogliamo che sia abolito l'ufficiale dell'arte della lana vogliamo essere pagati meglio ma soprattutto vogliamo anche noi partecipare al governo della città e cosa vuol dire vuol dire che anche noi vogliamo formare un'arte perché i padroni sono organizzati e noi no vogliamo che anche noi operai formiamo delle corporazioni e che mettano nei sacchi anche i nostri nomi anche noi vogliamo poter diventare priori e gonfalonieri di giustizia quando si fa il sorteggio i priori devono decidere cosa fare è la notte tra il 19 e il 20 la confessione di Simoncino dice sì domattina il 20 gli operai insorgono i priori hanno come dire un referente politico le arti e quindi mandano ad avvertire i capi delle arti e a chiedere cosa bisogna fare i capi delle arti dicono siete sicuri di queste confessioni meglio essere proprio sicuri reinterrogateli di nuovo sotto tortura li reinterrogano sotto tortura e questi ripetono tutto con un'aggiunta c'è un capo Salvestro rimesserà la mano dei medici l'amico del popolo tutto torna sarà vero non sarà vero gli hanno fatto dire per forza però Salvestro si era ritagliato quel ruolo e quindi adesso gli tocca viene accusato di essere lui il capo va bene e allora quella notte arrestano altri operai li torturano li interrogano tutti confermano l'insurrezione per domani mattina a questo punto i priori chiusi dentro il palazzo possono fare un'unica cosa sperare che le arti padroni e padroncini grandi e piccoli tengano duro e siano disposti a sostenere il governo contro la rivolta perciò l'ordine è domattina all'alba tutte le arti in piazza tutti armati sotto i loro gonfaloni a difendere palazzo vecchio perché dai quartieri bassi arriverà la feccia a dare l'assalto a palazzo vecchio la scommessa è che le arti tengano e cioè che anche il calzolaio e l'oste decidano di stare con l'industriale e col banchiere contro gli operai sarà così lo vedremo domani mattina in realtà non c'è da aspettare la mattina perché tutti questi interrogatori sono stati condotti in gran segreto nelle cantine di palazzo vecchio dentro non c'è nessuno che possa sapere cosa sta succedendo e riferirlo fuori no invece c'è uno c'è l'orologiaio che sta aggiustando l'orologio di palazzo vecchio perché siamo nel medioevo ma c'è l'orologio naturalmente c'è l'orologio pubblico questa è una grande città industriale e il tempo è scandito dall'orologio del comune che batte le ore e c'è l'orologiaio in palazzo è l'unico estraneo c'è l'orologiaio che sta aggiustando l'orologio e sente gridare quelli che vengono torturati l'orologiaio sente tutto e poi esce e l'orologiaio è uno del popolo è un piccolo artigiano anche lui e lui decide che non sta con i priori traditori amici dei ricchi lui sta col popolo perciò l'orologiaio esce va a casa si arma non è ancora l'alba e poi esce in strada l'orologiaio gridando allarme allarme i priori fanno carne fanno carne vuol dire ammazzano la gente sei un uomo e lo trasformi in carne i priori fanno carne armatevi cattiva gente che non vuol dire come vorrebbe dire per noi malvagia vuol dire poveretti armatevi poveri voi se non che sarete tutti morti e a questo punto suonano le campane a martello in tutta la città all'alba i priori sono dentro il palazzo hanno fatto venire un centinaio di soldati i soldati sono schierati in piazza in armatura fermi lì sono mercenari i priori aspettano che arrivino le arti organizzate con i loro gonfaloni non arriva nessuno e invece arriva il popolo arrivano gli operai gli insorti questa gente dicono i testimoni che si cominciarono a chiamare i cionpi perché la parola cionpi voi leggerete sui dizionari che vuol dire gli operai dell'arte della lana ma non ci metterei la mano sul fuoco perché voglio studiarlo ancora un po' ma la mia impressione ora come ora è che non era una parola di uso comune dilaga in quel momento perché come ho già detto ieri quando nel medioevo c'è una rivolta tutti sentono il bisogno di trovare un nome per indicare quelli che fanno parte della rivolta e perciò questa parola di colpo diventa di uso universale chi sono i cionpi sono gli operai insorti quello sono i cionpi e i cionpi occupano la piazza gridando naturalmente cosa viva il popolo perché capite l'ambiguità di questa parola popolo che a seconda di come la rigiri può voler dire il banchiere o può voler dire i poveretti e chi mai non accetterebbe di gridare viva il popolo nessuno se lo può permettere i cionpi gridano viva il popolo i soldati e i soldati non si muovevano anzi stavano a vedere non sono mercenari perché dovrebbero rischiare la pelle quando le arti che dovevano sostenere il loro governo non si sono fatte vedere i priori sono chiusi dentro da sotto urlano liberate gli arrestati dopo un po' da sotto cominciano a tirare con le balestre contro le finestre del palazzo a questo punto i priori cedono e liberano gli arrestati come che tra priori fossin di quelli che dicessino rendansi in due pezzi per chi non capisse il Toscano del Trecento tra i priori c'era chi diceva sì sì li restituiamo gli arrestati in due pezzi prima gli tagliamo la testa e poi li restituiamo ma non hanno il coraggio di farlo li liberano la gente in piazza urla grida e il grido adesso è andiamo a saccheggiare i palazzi che mancano i traditori sono tanti cominciano a dare l'assalto ai palazzi degli industriali dei lanaioli bruciare saccheggiare fuoco e carne i capi dicono no momento noi non siamo questo vietato saccheggiare ma bruciare sì perché quelli sono i nemici del popolo e meritano che le loro case vengano bruciate i priori quella notte fanno venire pane vino aceto carne salata formaggio e sale e grandi carichi di pietre per difendersi dalle finestre nel caso che il popolo rimanga fuori il popolo rimane fuori il 21 mattina diluvia bomba d'acqua diremmo noi oggi uno di quei diluvi estivi terrificanti i priori dentro il palazzo sperano che la gente torni a casa la gente non torna a casa anzi i cionpi insorti hanno fatto dire alle arti di venire in piazza anche loro ad aiutarli e le arti visto che la plebe e padrona della città non osano non venire poi i cronisti dicono e chi venne e chi no però intanto le arti vengono manca una potete immaginare quale l'arte della lana non si fa vedere ma tutte le altre corporazioni vengono a dare appoggio agli operai insorti e gli operai presentano le loro richieste e la principale è che anche loro vogliono come dicevo organizzarsi in arti devono essere riconosciute tre nuove arti una la più grande tutti i sottoposti della lana un'altra i sarti che anche loro sono dei piccoli poveri e un'altra i tintori tre arti nuove e ogni arte nuova deve avere i suoi priori sorteggiati ogni volta e anche il gonfaloniere deve poter essere uno dei nostri i priori sono chiusi nel palazzo e devono decidere gli diciamo di sì o gli diciamo di no da sotto gridano fa un caldo spaventoso i priori sono chiusi lì dentro la folla fuori tumultua e le grida andavano al cielo che non si udiva nulla nella sala però qualcosa in realtà udivano a un certo punto sentono che in piazza qualcuno comincia a gridare andiamo a bruciare le case dei priori a questo punto i priori votano le richieste del popolo e diventa legge di Firenze che si creano queste nuove corporazioni dopodiché uno dei priori che non ne può più esce da una porticina e scappa a casa ma non dovevi farlo perché i priori per obbligo costituzionale in quei due mesi stanno nel palazzo il priori che è uscito è come se si fosse dimesso lo vedono e quindi il popolo comincia a dire fuori i priori fuori li vogliamo nuovi via i vecchi e il popolo sciama nel palazzo mentre i priori scappano a casa il popolo prende il palazzo e trovano la prova che i priori erano traditori da qualche parte in palazzo vecchio trovano i capestri i quali avviencomperati per impiccare i poveri poi chi lo sa se quei capestri c'erano da sempre ma invece la voce corre subito vedi volevano impiccarci hanno perfino comprato i capestri i giovani sono sempre i giovani all'avanguardia sciamano nel palazzo salgono sulla torre suonano le campane a festa in segno di vittoria viene fatto a pezzi il bargello il capo effettivo della polizia il bargello sernuto che dice un cronista era quello che aveva promesso al popolo grasso che reggeva prima di impiccare i poveri il bargello è un funzionario che come si usa è fatto venire da fuori come l'ufficiale dell'arte della lana perché quelli che devono fare i lavori sporchi li facciamo venire da fuori il bargello sernuto poteva anche cavarsela è un forestiero sta all'albergo era chiuso nel suo albergo nessuno sapeva dove fosse e nessuno pensava a lui a sernuto viene la bella idea di farsi la barba manda a chiamare un barbiere il barbiere manda un garzone il garzone fa la barba a sernuto non l'ha riconosciuto non sa chi sia quando il garzone ha finito di fargli la barba il servo di sernuto lo deve pagare e dice al padrone sernuto che gli do il garzone sente sernuto fa due più due lo riconosce va fuori e dice sernuto è lì è chiuso in quella sernuto il bargello quello che avevano fatto venire per ammazzarci tutti certo lui il popolo va a prenderlo lo trascinano fuori vogliono impiccarlo ma non fanno in tempo perché lo odiano talmente tanto che lo ammazzano e poi lo impiccano per i piedi già morto e poi lo fanno a pezzettini commenta un cronista per una volta abbiamo anche dei cronisti favorevoli all'insurrezione qui abbiamo anche della gente che dice l'insurrezione è stata sacrosanta giustissima meno male peccato che poi è finita male ma era sacrosanta e uno di questi cronisti commenta certo hanno fatto la pelle a sernuto era fatto venire per fare carne d'uomini e poi e poi noi il popolo abbiamo preso il potere e noi siamo il potere legittimo in questa città quindi adesso nomineremo i nuovi priori ma innanzitutto ci vuole un gonfaloniere di giustizia non si può senza un gonfaloniere di giustizia non si può far niente lui è il potere esecutivo chi lo fa sono andati a prendere il gonfalone della giustizia per far vedere che loro sono appunto illegittimi detentori della sovranità hanno il gonfalone di giustizia chi lo porta e ce l'ha in mano un fattorino di un industriale della lana si chiama si chiama Michele Di Lando è venuto lì in calzoncini corti dicono senza calze e lui fa un caldo da morire e questo qui si trova a avere in mano il gonfalone fallo tu il gonfaloniere di giustizia e Michele Di Lando figlio di una venditrice del mercato e fattorino di un industriale si trova di colpo gonfaloniere di giustizia di Firenze unica autorità esistente perché i priori sono andati tutti a casa per un giorno e mezzo Michele Di Lando governa Firenze ci sono rimaste le ordine lo so che è tardi ma mi avvio a finire ci sono rimaste delle lettere delle ordinanze firmate da lui Michele Di Lando gonfaloniere di giustizia i cronisti ostili potete immaginare per un giorno e mezzo Firenze è stata governata da questo pezzente in calzoncini corti nemmeno le bracche possedeva ecco dopodiché create le nuove arti bisogna procedere al sorteggio dei nuovi priori e quindi quindi bruciamo tutti i vecchi sacchi con i vecchi nomi e facciamo i nuovi sacchi con i nomi nuovi anche i nostri adesso ce li mettiamo è una procedura lunghissima i cronisti ostili dicono non potete immaginare come l'hanno fatta questa cosa tutti i pezzenti lì a scrivere questi nomi immigrati gente che non si sapeva chi erano e questi qua volevano governare Firenze e hanno fatto le nuove borse e poi sorteggiano e uno dei cronisti non sappiamo come si chiama ma è uno che c'era partecipato a queste cose e lui era contentissimo dice ah questa operazione di sorteggio loro lo chiamavano lo scrutinio che però in fiorentino dell'epoca suonava lo squittino e lo squittino ecco ci mettono settimane a fare i sacchi con tutti i nomi poi estrarre i nuovi priori e lo squittinatore è il nome di questo diarista anonimo che partecipa e lo dice fu fatto il buono squittino che contentò molta gente i quali non avevano mai avuto parte d'ufficio e sempre erano stati alle spese perché noi i poveri noi le tasse le paghiamo ma un ufficio non l'avevamo mai visto una carica una poltrona ecco e col sistema di prima dice non ebbono mai ne uno guadagno se non i ricchi ovviamente voi capite che il sottinteso è quando hai una poltrona tutto sommato e non è solo l'onore ecco perché i ricchi le volevano tutte loro finora le poltrone adesso ce l'abbiamo anche noi finalmente dopo aver pagato tanto è ora di guadagnare un po' ordine di far festa aprire le botteghe tedeum campane a gloria confetti e vino per tutti in piazza la città festeggia ma non tutti festeggiano i lanaioli non festeggiano i banchieri non festeggiano i bottegai sono lì che si chiedono abbiamo fatto bene ad aiutare questi poveracci o era meglio lasciar perdere la città è in sospeso le botteghe non aprono molti cittadini sgombrano le famiglie in campagna la gente mormora i priori proibiscono di mandare la famiglia in campagna molta gente comincia a chiedersi che razza di governo abbiamo vedete come è facile scivolare dall'entusiasmo del trionfo ai provvedimenti dittatoriali che ti fanno perdere il consenso e come in tutte le rivoluzioni nasce la milizia rivoluzionaria nascono le guardie rosse i priori ordino di arruolare mille balestrieri fra il popolo minuto fra i poveri stipendiati dal comune e arruolano questi balestrieri i quali ogni giorno si esercitano in città in pubblico dicendo parole villane contro agli altri cittadini perché è chiaro ogni milizia rivoluzionaria vede i nemici del popolo dappertutto e allora in questa situazione il problema è che il ritorno alla normalità è impossibile è impossibile anche perché i cionpi si sono abituati a stare in piazza a stare sotto il palazzo e a gridare pretendono e i malcontenti i ricchi malcontenti sobillano il popolo minuto e vi imboccano col cucchiaio vuoto vi imboccano col cucchiaio vuoto tante promesse tante parole avete visto qualcosa niente anche questi nuovi priori è vero ci sono anche i nostri dentro tre dei nuovi priori sono operai adesso ma anche loro anche loro traditori una volta che sei lì a palazzo e noi siamo sotto in piazza non ci fidiamo cacciamoli via tutti creano una nuova commissione rivoluzionaria gli otto d'ora in poi saranno gli otto che governano Firenze e i priori beh quando a fine agosto scadono li facciamo nuovi col sorteggio dalle borse ma sotto il controllo degli otto e gli otto capi della rivoluzione diciamo così sono lì in palazzo e ogni volta che viene fuori un nome dalle borse uno va alla finestra e grida al popolo è venuto fuori il tal dei tali lo volete no che non lo vogliamo e allora niente quello si butta via e se ne sorteggia un altro finché non vengono fuori dei nomi che piacciono alla piazza e il problema è che a questo punto i cionpi perdono la maggioranza del consenso in città perché loro sono tanti ma sono tanti anche gli artigiani i bottegai i piccoli sono tanti anche i ricchi e i piccoli sono tantissimi tutti quelli che hanno bottega e interessi e che si sono lasciati trascinare in quei giorni a dire dai facciamo questa rivoluzione hanno ragione i poveri ma dopo qualche giorno ci stanno tutti ripensando e i priori stessi benché alcuni di loro siano operai anche loro appena nominati appena sorteggiati però di questa cosa che loro priori governano con la piazza sotto piena di folla che gli urla dietro neanche loro si stanno più e a questo punto è tutto molto veloce perché i capi delle arti molto rapidamente fanno girare il passaparola siamo d'accordo che così non va bene sì siamo d'accordo siamo d'accordo che questo governo della feccia non può continuare sì siamo d'accordo i priori cosa dicono i priori non possono dirlo ma stanno con noi è ora di farla finita e allora come si fa a farla finita eh si fa finita perché andiamo in piazza in tanti tutti armati e tutti decisi a farla finita in questo clima i cionpi a loro volta non sono contenti di niente hanno nuove richieste portano ai priori le nuove richieste vanno due degli otto due dei capi della giunta rivoluzionaria vanno a palazzo vanno dai priori questo è l'elenco delle nuove richieste il gonfaloniere di giustizia gli va incontro tira fuori la spada li colpisce li butta giù tutti e due li fa arrestare eppure questo era il governo del popolo eh sorteggiato con la gente sotto che diceva sì quello lo vogliamo ma in pochi giorni sono diventati il governo e non vogliono più che la piazza comandi a questo punto il popolo la feccia come dicono loro i cionpi sono sotto e non sanno cosa sta succedendo ma cominciano ad arrivare gli artigiani e i mercanti organizzati in armi con i loro gonfaloni i cionpi non sanno anche l'altro giorno erano in piazza a sostenerci quindi che si fa i cionpi sono lì hanno anche loro un loro gonfalone della loro nuova insegna con un angelo dipinto sopra e vedono arrivare la folla delle arti organizzate e non sanno cosa sta succedendo e invece quelli delle arti sanno cosa sta succedendo perché i capi hanno passato parola a tutti andiamo in piazza per farla finita con la rivoluzione e in una parte della piazza ci sono i cionpi e dall'altra parte arrivano gli artigiani e i mercanti armati con i loro gonfaloni e sono sempre di più e i cionpi cominciano a preoccuparsi qualcuno dice ma non è che siamo traditi non è che i priori ci hanno traditi dal palazzo esce il gonfaloniere di giustizia e dice no quale tradimento quei due degli otto che ci avete mandato erano traditori li abbiamo arrestati volevano la dittatura volevano dare la città in mano a un signore sono tutte parole d'ordine che in un comune italiano fanno subito scattare le cose come volevano un signore e noi non lo volevano allora erano davvero traditori quei due e qualcuno in piazza comincia a dire buttate giù i priori operai non li vogliamo più traditori tutti e altri dicono no però se sono traditori bisogna processarli giudicare e i ricchi invece gridano buttateli giù dalle finestre e in piazza il popolo organizzato le arti affluisce sempre di più mentre i cionpi non sanno bene cosa sta succedendo molta gente pioveva da ogni parte alla piazza specialmente i grassi e gli artefici gli artigiani minuti e grandi perché sapevano il fatto del trattato che doveva essere cioè sapevano che c'era l'accordo a un certo punto un gruppo di cionpi vede un gruppo di artigiani armati un po' troppo arroganti vanno a dirgli cosa fate qua in piazza sgombrate e non si volia impartire quelli non volevano andarsene perché sapevano perché vi stavano in altre parole tutti i resoconti battono sul fatto che la controrivoluzione è perfettamente organizzata le corporazioni sono un meccanismo di trasmissione straordinario in un attimo hai in piazza migliaia di persone armate che hanno ricevuto la parola d'ordine sanno cosa stiamo andando a fare stanno lì quasi tutto il giorno a fronteggiarsi poi tre ore prima del tramonto chiedono ai cionpi di cedere il loro gonfalone i cionpi non lo cedono il gonfalone ce lo sono appena conquistato il simbolo del fatto che loro sono una corporazione ufficiale riconosciuta non lo cedete e a questo punto gli altri attaccano davanti a tutti i macellai centinaia di giovanotti nerboruti armati con gli attrezzi del mestiere la mannaia il coltellaccio i macellai vanno avanti gli osti vengono dietro e poi via via i bottai i muratori tutte le corporazioni artigiane danno addosso ai cionpi e i cionpi presi completamente di sorpresa si sbandano scappano dal palazzo i priori gli fanno tirare addosso con le balestre e vedendo che anche dal palazzo i loro priori tradiscono il popolo perde completamente la testa scappano tutti a casa molti morti in piazza poi durante la notte le milizie delle arti setacciano i quartieri popolari non uccidono nessuno ma bastonano sequestrano le armi violentano donne riprendono il possesso della città e l'indomani in piazza ci sono solo le arti organizzate e allora si comincia per prima cosa dov'è il gonfalone dei cionpi l'abbiamo preso eccolo stracciato e calpestato in pubblico e poi i tre priori cionpi anche se hanno sostenuto la contro rivoluzione però non li vogliamo più facciate con questi gaglioffi giuso buttateli giù questi gaglioffi i tre priori operai dicono noi andremo a casa abbiamo capito che non è da noi fare i priori gente della nostra condizione no no tutto dimenticato lasciateci solo tornare a casa li fanno scortare dalla polizia a casa fine dei priori cionpi in piazza c'è un artigiano che si lascia scappare che non è giusto perché i lavoranti della lana avevano ragione di che fu morto in sulla piazza lo ammazzano sul posto la partecipazione del popolo non organizzato agli uffici è abolita l'arte dei cionpi è abolita le altre due arti nuove i tintori e i sarti le lasciano perfino loro hanno tradito perfino loro con l'idea noi ci lasciate qualcosa hanno abbandonato gli operai e quindi si rifà il governo distribuendo i posti tra le arti minori e le arti maggiori si proibisce che d'ora in poi qualunque sottoposto dell'arte della lana possa avere un qualunque ufficio in comune e poi e poi si fa festa si scrive alle città alleate che la terra era tornata alla signoria di mercatanti e buoni uomini cioè di gente per bene girano le canzoni che prendono in giro questi poveracci che non si sa chi era loro padre gente che nacque ieri e che credevano di poter comandare loro in città viene deciso che d'ora in poi il giorno di San Giuliano e quel giorno in cui i cionpi sono stati sbaragliati sarà festa nazionale del comune di Firenze il giorno che furono i sconfitti i cionpi di Firenze e per mesi bisogna stare molto attenti a quello che si dice molti mesi dopo c'è un artigiano che si fa sentire a dire che questo governo che abbiamo adesso non è buono e che non durerà viene preso arrestato e gli tagliano la lingua e la mano destra per esempio agli altri non bisogna andare in giro a dire certe cose e poi e poi naturalmente cosa succede che poi congiure impiccagioni i cionpi vorrebbero ancora insorgere non ci riescono il governo stringe naturalmente perché stringe perché adesso che abbiamo vinto le due arti nuove dei sarti e dei tintori che all'ultimo momento le abbiamo salvate perché sono passate dalla parte dei ricchi ma non durano mica un paio d'anni dopo viene deciso di abolire anche quelle e non c'è più nessuno che abbia la forza di resistere e le arti minori gli osti i muratori i macellai che hanno avuto grosse promesse avrete la maggioranza dei priori cinque su nove poi no scusate troppi quattro su nove poi nuova riforma tre su nove poi nuova riforma due su nove e il gonfaloniere di giustizia deve essere delle arti maggiori e tutte queste cose passano perché hanno tutti paura e nessuno è più in grado di reagire e come dire ieri ho finito il racconto della giocheria in Francia sottolineando che molti secoli dopo certo in una Francia cambiata da tanti punti di vista ma tutto sommato c'erano sempre il re i nobili e il popolo di Parigi sempre pronto a insorgere e i contadini ecco era un mondo diverso ma non così diverso qualche secolo dopo la fine del medioevo in Francia una rivoluzione riporterà in campo alcuni dei motivi per cui si era combattuto nella grande rivolta della giocheria sarebbe bello poter finire anche stasera dicendo beh la rivolta dei cionpi è stata solo una rivolta non una rivoluzione perché è stata sedata con violenza certo ma i semi li ha lasciati e nella storia d'Italia poi come tutti sappiamo c'è stata la grande rivoluzione libertaria del e commettete la data che volete perché tanto non c'è stata in Italia è tutto finito lì quella volta grazie grazie